Adesso nell'intervista di Andrea Picardi sentiamo il ricordo di Pino Rauti da parte di donna assunta almirante. Lui è stato parte integrante del movimento sociale italiano, è stato un uomo che ha praticamente combattuto su due piani diversi, perché mentre mio marito combatteva per la moderazione, lui aveva forse più ragione di mio marito che ci voleva più arroganza, questa è la realtà dei fatti, comunque era un uomo di grande intelligenza, messo sui giornali parecchie svariate volte anche per la tragedia di Piazza Fontana, che poi fortunatamente ne è uscito il leso, però ingiustamente si è fatto un bel mese di San Vittore, quindi questa è la realtà dei fatti. Che rapporto c'era con suo marito? Beh era sempre un rapporto di persone civili, tant'è vero che mio marito conoscendone le capacità e l'intelligenza lo nominò vice segretario del partito. D'Ausi non appoggiò la svolta di Fiuggi e di Gianfranco Pino? No, non appoggiò come me, avevamo entrambi ragione, avevano sbagliato e hanno sbagliato e ne pagano le conseguenze. Rauti fu previdente in quel periodo, tant'è vero che fece fiamma tricolore, no?